Solitamente la gestione del progetto europeo è quella parte che per certi versi presenta particolari sfide particolari sfide anche perché quando si gestisce, soprattutto quando si è a capo di un progetto come coordinatore come quindi quello che solitamente nei formulari definiamo il project coordinator o il project leader ci si interfaccia con un certo numero di organizzazioni partner che provengono da diversi paesi spesso paesi europei ma come sappiamo c'è anche la possibilità di lavorare su progetti che coinvolgono anche paesi extra europei ci troviamo in quella fase che mette in relazione sostanzialmente la fase di formulazione con quella di implementazione nella gestione del progetto siamo pienamente in fase di implementazione nel nostro PCM però sappiamo bene che la fase di implementazione quindi la gestione di un progetto la messa in opera di un progetto non può prescindere da quello che è stato descritto nel formulario perché diciamo una buona implementazione di progetto quindi una buona gestione di un progetto è quella che sovrappone per quanto possibile quello che è stato scritto nel formulario con quello che poi sarà realizzato quindi lo scopo ultimo della gestione del progetto è esattamente questo cioè produrre quello che il formulario prevede il formulario è semplicemente una previsione di quello che poi sarà è chiaro che sarà come dire non semplicissimo seguire perfettamente alla lettera quello che il formulario prevede anche gli enti finanziatori comprendono che spesso fattori esterni possono leggermente condizionare l'implementazione di un progetto quindi la realizzazione di un progetto quindi lasciano un certo margine di manovra di piccoli aggiustamenti che chiaramente nell'implementazione ci sta sempre questi aggiustamenti sia di budget sia di attività non devono comunque influenzare negativamente il risultato finale previsto dal progetto quindi i risultati attesi, gli impatti attesi quindi diciamo va bene quel piccolo margine di manovra ma questo non deve pregiudicare la qualità stessa del progetto il primo strumento che diventa fondamentale nella gestione di un progetto è sicuramente il formulario proprio perché c'è questa forte corrispondenza tra queste due fasi del PCM la fase di gestione di un progetto è sempre descritta nel primo work package del nostro formulario che è chiaramente il work package di management quindi già nel formulario noi indichiamo le modalità, i criteri, gli approcci, le dinamiche anche di comunicazione interna diciamo così che applicheremo nel gestire il nostro progetto quindi già il work package 1, management, nel formulario ci dà le prime indicazioni rispetto a quello che prevediamo essere la fase di gestione ricordiamoci cosa solitamente mettiamo nel work package 1 solitamente si descrivono i comitati, chiamiamoli di pilotaggio all'interno del progetto quello che troverete spesso con il nome di steering committee quindi la composizione di questi comitati di pilotaggio che sicuramente avranno al vertice il coordinatore di progetto cioè la persona incaricata dall'organizzazione capofila del progetto di gestire e monitorare e coordinare l'intero progetto e poi una serie di altri attori che si occuperanno di coordinamento soprattutto a livello locale ci può anche stare un comitato scientifico chiaramente per quei progetti che necessitano di un coordinamento prettamente scientifico o tecnico diciamo così un comitato a supporto del comitato di gestione generale sicuramente ci sta la parte finanziaria è un elemento fondamentale della gestione del progetto quindi anche i responsabili finanziari dei singoli partner e quello generale diciamo così del capofila farà parte dei comitati di pilotaggio del progetto e ci saranno una serie di interazioni più o meno standardizzate diciamo così tra questi membri dei comitati il coordinatore generale di progetto in qualche modo deve dotarsi di strumenti che consentano ad ogni attore coinvolto direttamente nel progetto quindi ai partner di performare nel modo migliore le attività appunto che sono in capo a loro la prima cosa da fare è la predisposizione del cosiddetto piano di gestione del progetto e non è obbligatorio attenzione io lo descrivo sempre nel formulario come uno dei deliverables diciamo così del work package 1 ed è sostanzialmente un documento che riassume in maniera più schematica diciamo così di quello che è nel formulario qual è l'implementazione il flusso di attività e di responsabilità all'interno del progetto attinge a piene mani dal formulario ma in qualche modo organizza in maniera più semplice appunto ruoli, attività, responsabilità, tempistiche e quant'altro nel piano di gestione si parla di gestione del team, del gruppo di lavoro sia con i ruoli ma anche con le modalità come dicevo di interazione tra il team di lavoro si parla di gestione dell'ambito del progetto all'interno del piano di comunicazione si parla di gestione dei tempi di realizzazione del progetto un progetto ha una vita scandita ha un punto di inizio, un punto di fine ben chiari e all'interno una serie di attività che vanno realizzate entro un certo tempo la gestione della spesa del progetto la parte di reportistica e di utilizzo delle risorse all'interno del progetto è fondamentale un buon monitoraggio dell'andamento dei flussi di spesa del progetto è fondamentale anche le spese sono calendarizzate in qualche modo sappiamo che quelle risorse sono destinate a un certo tipo di attività che va performata in un certo periodo di tempo appunto all'interno del progetto e questo monitoraggio della spesa è assolutamente fondamentale la gestione dei rischi sappiamo tutti che il progetto è come dire soggetto a una serie di problematiche potenziali che possono rallentarne e nei casi più gravi anche bloccarne l'implementazione si parla dentro il piano di gestione di monitoraggio, controllo e gestione della qualità che è un aspetto fondamentale perché il coordinatore guarda e facilita e dirige i lavori ma è sempre bene avere qualcuno che supporti il coordinatore soprattutto sulla qualità di quello che si sta facendo e poi la fase di chiusura del progetto che è spesso quella più delicata quando si chiude un progetto l'attività principale del coordinatore è quella di produrre la reportistica che poi va sottoposta all'ente finanziatore che valuterà sulla base dei report ricordiamoci c'è un report finanziario e un report sulle attività svolte quindi un report descrittivo ai quali vanno allegati tutte le pezze d'appoggio diciamo relativamente alla rendicontazione e tutti i prodotti, i risultati realizzati all'interno del progetto in modo che il valutatore possa valutare se quello che abbiamo prodotto alla fine è in linea con quello che dicevamo come dire, promettevamo all'interno del formulario un buon coordinatore di progetto prepara la reportistica durante tutta la vita del progetto predisponendo una serie di passaggi intermedi che gli consentono non di, come dire, mettere assieme tutto il materiale alla fine del progetto in quei due o tre mesi che solitamente si danno dopo la fine del progetto per presentare i report ma chiaramente diluisce nel tempo il lavoro anche di reportistica finale andiamo punto per punto rispetto alla pianificazione e gestione in questo caso del team di progetto dare certezza a ogni membro del team di progetto quindi della squadra di progetto che è composta dal coordinatore e dagli altri coordinatori locali io li chiamo ma quelli appartenenti ai vari partner dare certezza del loro ruolo quindi è una questione di definire subito ruoli e responsabilità di ognuno la gestione dell'ambito del progetto è, come dire, quella gestione che afferisce, diciamo, di più alla misurazione e verifica dei deliverables di progetto cioè quindi dei prodotti concreti ed è all'interno del management tool si prevede qual è la modalità di misurazione e verifica di questi strumenti si parla anche qui di verifica approvazione della work breakdown structure la struttura in, diciamo, work package semplicemente un po' la validazione del piano di lavoro ma già dentro il piano di gestione del progetto questa struttura è ampiamente riportata e quindi validata perché una volta che adottiamo il piano di gestione tu per tutti quello diventa come dire il manuale condiviso da tutti e quindi i contenuti sono si presuppone siano condivisi anche da tutti i partner nella gestione dell'avanzamento del progetto delle possibili varianti e degli scostamenti dentro il piano di gestione dobbiamo prevedere come gestire a livello di dinamiche interne lo stato di avanzamento del progetto e gli eventuali scostamenti o varianti che possono esserci quindi come eventualmente gestire queste situazioni la gestione dei tempi del progetto lo strumento più utile che ci consente di gestire le tempistiche di realizzazione delle attività del progetto è il famoso diagramma di Gantt nel piano di gestione del progetto una sezione dedicata alla parte finanziaria quindi a cosa ci si aspetta a livello di spesa come rendicontare quelle spese questo ulteriore strumento che consente ai partner quando vanno a rendicontare le spese e quando le vanno a spendere di farlo nel modo più opportuno evitando quindi errori nel performare quelle spese nelle guide finanziarie che o sono solitamente degli allegati al piano di gestione del progetto sono parte integrante del piano si prova anche lì a semplificare e a dare quelle linee guida per evitare questo tipo di errori nella gestione delle risorse e nel rendicontare le risorse nel modo opportuno anche un buon piano della gestione dei rischi all'interno del piano di gestione generale andrebbe fatto soprattutto appunto nei progetti più complessi quelli con più rischi potenziali anche lì si sviluppano a volte dei tool degli strumenti che possono aiutare il coordinatore di progetto eventualmente a intervenire per tempo e già ad avere una prima bozza di soluzione nel caso in cui il rischio il rischio dovesse verificarsi si parla di rischio che viene definito come la probabilità che un evento si verifichi moltiplicato per l'impatto che ne deriverebbe quindi un rischio è appunto un evento esterno che impatterà sicuramente negativamente sullo sviluppo e sull'implementazione regolare diciamo così del nostro progetto monitorare il progetto e controllarne la qualità sono due elementi che sono un po' l'altra faccia della medaglia della gestione complessiva del progetto e sono due elementi complementari tra di loro il monitoraggio riguarda una serie di verifiche in itinere dell'andamento del progetto che in qualche modo supportano il coordinatore nel vedere qual è la qualità e se la qualità di quello che si sta facendo è in linea con le aspettative del progetto e quindi del finanziatore il monitoraggio e controllo di qualità avviene sempre in itinere ed è come dire un controllo costante che prende in esame anche appunto la qualità cosa diversa è un altro aspetto chiave di supporto al coordinatore di progetto che è la valutazione solitamente c'è sempre un doppio livello di valutazione del progetto che completa il monitoraggio e il controllo di qualità perché la valutazione cos'è? una serie di fotografie che come dire danno l'immagine di quello che è lo stato di avanzamento del progetto in quel determinato momento che è cosa un po' diversa dal monitoraggio e controllo che è un'attività più diciamo in itinere è più legata al controllo di qualità e al raggiungimento pieno degli obiettivi del progetto solitamente c'è una valutazione chiaramente ex ante ex post una intermedia poi all'interno del progetto il coordinamento diciamo il progetto può decidere anche di aumentare diciamo queste fotografie da scattare diciamo all'interno del progetto e c'è sempre un partner così come il monitoraggio e la gestione della qualità del progetto è sempre bene che queste attività queste azioni siano delegate a partner che non siano il coordinatore ma è bene soprattutto nei progetti più complessi prevedere anche una valutazione esterna la valutazione esterna si affida per definizione a un membro esterno al progetto quindi un professionista che non ha nulla a che fare con nessuno dei partner del progetto la fase di chiusura del progetto è quella che tiene impegnato più di tutti sicuramente il coordinatore del progetto e il responsabile finanziario del progetto è chiaro che quando chiudi un progetto è l'attività che tiene più impegnato il team il vertice diciamo di gestione del progetto ma è chiaro che non puoi presentare un report né intermedio né finale di progetto quindi narrativo e finanziario se non hai i dati e il supporto dei materiali da parte di tutti i partner quindi oltre a descrivere nel report come è andato il progetto cosa avete prodotto quali dinamiche sono state messe in campo quali metodologie la qualità dei prodotti il sistema di monitoraggio cosa ha dato e quant'altro e indicare il raggiungimento di tutti gli indicatori non puoi fare questo se non hai il contributo fattivo e operativo di tutti i partner vi ricordo che solitamente per i report finali l'ente finanziatore ci dà una sorta di tabella con dei range di valutazione a chiusura del progetto sempre l'ente finanziatore si tiene almeno il 20% del budget che concederà solo dopo la valutazione del report finale il progetto va coordinato bene dal primo al novantesimo giorno dopo però ricordiamoci che nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto il progetto è sempre soggetto a controlli e verifiche a audit quindi un buon coordinatore di progetto deve anche prevedere quello che potrebbe succedere 5 anni dopo la chiusura del progetto è predisporre tutti gli strumenti tutti i documenti tutta la documentazione appropriata in modo da prepararsi a un eventuale audit vi cito alcuni strumenti di gestione tipici il Gant che si fa in fase di formulazione è chiaro che in fase di implementazione il Gant può variare sia per iniziativa del finanziatore può variare su iniziativa dei partner del capofila comunque del partenariato un altro strumento fondamentale quando si lavora in team è quello di creare uno spazio virtuale diciamo così in un cloud con delle cartelle di lavoro condivise in modo da archiviare e da lavorare simultaneamente sugli stessi prodotti sugli stessi strumenti ed avere e costruire quindi un archivio che costantemente si espande all'interno appunto di questi cloud di queste cartelle condivise nei progetti più complessi è utile anche utilizzare degli strumenti di gestione online strumenti di monitoraggio finanziario e strumenti di valutazione e monitoraggio di valutazione di valutazione e monitoraggio Grazie a tutti